Cari amici vicini e lontani, oggi è il 20 di giugno, sono le ore 13 e vi facciamo vedere il panorama del Pizzo Formico dal rifugio Parafulmine alla montagnina. La croce è quella del Pizzo Formico, poi alla sua destra vedete il Pizzo Arera là in fondo e ancora alla sua destra vedete le punte del Pizzo del Diavolo di Tenda. Dopodiché qui noi stiamo scendendo per cui c'è un prato di ranuncoli gialli bellissimi, come vedete c'è la nostra guida che sta facendo la pennica che vi saluta, poi vi facciamo vedere il panorama verso est, non sappiamo che monti siano quelli lì, dopodiché andiamo, 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 andiamo e adesso questo è il nostro percorso di discesa verso il Pizzo Farno. Auguri, auguri e buon appetito dai vostri gittanti gioiosi.